ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il video tutorial in collaborazione con youplacraft come potete vedere ormai l'estate è arrivata e io ho pensato di dedicare proprio questa stagione chiamo tantissimo il progetto di questo mese ho creato un quaderno dove raccoglierò probabilmente tutte le foto che farò in questo mese come l'ho creato la copertina è molto semplice perché ho recuperato tutte le striscette di carta che avevo sparse e le ho intrecciate tra di loro carina vero come idea all'interno ho ancora recuperato altra carta sparsa per la mia scrap room e l'ho cucita proprio con ago e filo carina l'idea è bene questo è il progetto di questo mese se siete curiosi di sapere come ho intrecciato la carta come l'ho cucita andate subito sul canale di youtube a vedere come ho fatto e poi mi raccomando taggatemi perché sono molto curiosa di vedere le vostre interpretazioni ciao e alla prossima ispirazione buon'estate 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.